Bene ragazzi, ben ritrovati, in questo video volevo farvi vedere con un breve tutorial come potete fare il claim dei vostri reward che vi spettano dall'avere accumulato appunto dei dividendi per la detenzione di alcuni banchera. Quindi come abbiamo visto da questo post ufficiale abbiamo potuto prelevare i nostri token banchera da quello che è Spettrocoin e metterli in un nostro wallet, quindi conservare le chiavi private in un wallet proprietario, nel nostro indirizzo. Se lo avete fatto però a questo punto non riceverete più quelli che sono i dividendi settimanali in modo automatico, quindi come possiamo fare però per ricevere gli Ether che ci spettano. Allora innanzitutto vi ricordo che sono accumulabili settimanalmente, quindi ogni settimana e non c'è bisogno di farlo ogni settimana, si possono lasciare accumulare. Qui ci danno il contract address, quindi andiamo a prendere questo contract address qui, andiamo su etherscan.io, lo andiamo a cercare e una volta che siamo sulla sua pagina andiamo su questa tabella code e da qui abbiamo il contract API. Ci andiamo a copiare questa API qui, da qui e lo andiamo, adesso vi faccio vedere come poter fare con MyEtherWallet. Io ho i miei token sul mio Ledger Nano S, quindi accedo tramite interfaccia MyEtherWallet e faccio il claim. Vado qui su contracts, copio quello che è il JSON, quindi l'API che vi ho fatto vedere. Qui ancora una volta il contract address, andiamo a mettere il nostro contract address e non possiamo selezionarlo perché non è ancora in lista. Andiamo a fare l'access da qui. Adesso abbiamo una serie di funzioni per scrivere o leggere su questo contratto e noi dobbiamo fare il claim reward. Quindi andiamo a cercare, eccolo qui, claim reward. A questo punto accediamo al nostro wallet. Mi raccomando, ovviamente deve essere il wallet, l'indirizzo dove voi state custodendo i vostri bankera token. Una volta che avete fatto l'accesso al vostro wallet, potete fare write. E a questo punto vi verrà comunicato un gas limit che vi suggerisco di lasciare così preimpostato. Il send lo lasciate a zero e andate a generare la transazione. Ho dato la conferma sul mio ledger e vado a firmare la transazione. Adesso la transazione è stata inviata. A questo punto potete controllare lo stato della vostra transazione, sempre o tramite il check transaction status, oppure vi andate a vedere, accedete di nuovo al vostro wallet e tramite header scan IO andate a controllare quello che è lo stato. In questo modo qui voi dovreste ricevere degli ethereum equivalenti a quello che è il vostro accumulato in dividendi. Mi raccomando però, siccome i dividendi potrebbero essere in questa fase anche molto bassi, dovete stare attenti che il costo poi di commissione, perché nel firmare la transazione comunque sia un costo che si paga in ethereum, questo deve essere, dovete stare attenti che sia più basso di quello che poi è il costo del, il quantitativo di dividendi che andate a ricevere. Quindi magari è consigliabile farli accumulare un po' e ogni tanto andare a fare quello che è il claim e vedere quello che si riceve. E anche per me questa è la prima volta, quindi ancora non so quanto andrò a ricevere, in che modalità, adesso poi andrò a controllare per bene, volevo farvi vedere come in linea teorica, seguendo comunque anche quelle che sono le istruzioni che ci dà appunto il blog ufficiale, era possibile farlo. Fate sapere le vostre esperienze e come poi effettivamente funziona nel vostro caso. In questa fase se non volete comunque fare una procedura del genere barattando con un rischio un pochino maggiore, potete rimuovere i token comunque in spettro coin, li riceverete i dividendi in maniera automatica. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo aggiornamento. Fatemi sapere se questa modalità effettivamente funziona anche per voi. Ciao a tutti!